Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ogni anno, video previsioni Oscar. Faccio sempre passare un po' di tempo dall'annuncio delle nomination all'uscita di questo video perché cerco di vedere i più candidati possibili. Questa volta credo sarà l'anno in cui ne vedrò di più, già sono notevolmente a un buon punto, ma come sempre il video di oggi si strutturerà con l'elenco delle nomination e chi secondo me potrebbe vincere e chi vorrei vincesse, che non sempre, anzi nella maggior parte dei casi, sono opinioni discordanti. Ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd, Twitter, X. E c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove in questo momento ogni t-shirt costa solo 10,90€. A scendere, 10,90€, 7,90€, non più di 10,90€. E con il codice IlPensiero4 avrete come sempre un paio di calze gratis a scelta. L'ordine delle categorie sarà quello che si è visto durante la live delle nomination qualche giorno fa. Naturalmente leggerò i nomi perché credo sia impossibile ricordarli tutti a memoria. Sterling K. Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling per Barbie e Mark Ruffalo per Poor Things. In questo caso vorrei vincesse Robert Downey Jr. per Oppenheimer e credo che vincerà effettivamente. Non voglio parlare della polemica della candidatura di Ryan Gosling perché non è il momento d'atto, l'hanno già fatto in tantissime persone. Credo che non dovesse stare in questa lista e non perché mancano Greta Gerwig o Margot Robbie o perché c'è America Ferrera nell'altra categoria, però credo che non abbia fatto chissà che grande interpretazioni in Barbie. E a me Ryan Gosling piace. Quindi credo che per questa categoria potrebbe vincere Robert Downey Jr. e ne sarei felicissimo. Miglior costume Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things. Io vorrei vincesse Poor Things perché i costumi sono veramente stupendi, ma sfortunatamente credo possa vincere Napoleon. Io Napoleon non l'ho retto e non ne voglio parlare. Miglior trucco Golda, Maestro, Oppenheimer, Poor Things, La Società della Neve. Anche in questo caso io vorrei vincesse Poor Things e stavolta credo possa tranquillamente essere il vincitore nella realtà. L'unico film che qui mi manca da vedere è Golda, poi gli altri li ho visti, però punto tutto su Poor Things. Miglior cortometraggio The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue e The Wonderful Story of Enel Sugar. Di questi candidati ho visto solamente The After e il corto di Wes Anderson, entrambi si trovano su Netflix. E nonostante da una parte c'è Wes Anderson, io preferirei vincesse The After. Poi ovviamente non ho visto gli altri, quindi non posso giudicare, magari nessuno dei due è favorito alla vincita. Miglior corto animato Letter to a Pig Nineteen Five Senses Our Uniform Pachyderm War Is Over Di questi non ho visto nessuno, quindi non saprei assolutamente che dire, se non che vorrei assolutamente trovarne qualcuno, perché solitamente i corti animati mi piacciono sempre. Miglior sceneggiatura non originale American Fiction Barbie Openheimer Poor Things La zona di interesse In questo caso vorrei vincesse Oppenheimer o Povere Creature, ma credo possa vincere The Zone of Interest, la zona di interesse. Non ho ancora visto il film perché in Italia arriverà il 22 di febbraio, lo vedrò per quella data, ma non so, sento che la zona di interesse è favorito per più premi quest'anno. Miglior sceneggiatura originale Anatomia di una caduta The Old Overs Maestro May December Past Lives Tra questi candidati mi mancano Anatomia di una caduta e May December, May December tra l'altro arriverà a marzo, a fine marzo, quindi grande idea far uscire il film dopo la giornata degli Oscar. Past Lives che ho visto in anteprima mi ha un po' deluso, sinceramente, e quindi io vorrei vincesse The Old Overs e magari potrebbe anche tranquillamente portarsi a casa il premio realmente. Miglior attrice non protagonista Emily Blunt per Oppenheimer Daniel Brooks per Il Colore Viola America Ferrera per Barbie Jodie Foster per Niad E Davine Joy Randolph per The Old Overs Qui credo che la vincita di Davine Joy Randolph sia ovvia, e anzi vorrei vincesse lei, anche se mi farebbe piacere per Emily Blunt, però in confronto all'attrice di The Old Overs che io avevo già conosciuto in Only Murders in the Building, non ha niente a che fare. Miglior canzone originale The Fire Inside da Fleming Hot I'm Just Can da Barbie It Never Went Away da American Symphony Was Ase a Song for My People da Killers of the Flower Moon E What Was I Meant For da Barbie In questo caso credo che Billie Eilish con la canzone per Barbie si porterà a casa il premio e sarà il suo secondo Oscar, se non sbaglio l'ha già vinto per No Time To Die, per No Time To Die. Miglior colonna sonora originale American Fiction Indiana Jones è il quadrante del destino Killers of the Flower Moon Oppenheimer e Pur Figs Mi farebbe piacere vincesse Pur Figs perché la colonna sonora è pazzesca, però credo che il premio ce l'abbia già scritto Penheimer perché la colonna sonora di Goranson è veramente magistrale, perfetta. Credo che K New Year The Music sia entrata già in principio, fin da subito, nelle mie colonne sonore preferite. Miglior documentario Bobby Vine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, 20 Days in Mariupol. Non ho visto nessuno di questi documentari, non so in realtà neanche dove trovarli, però visti i temi trattati credo possa vincere tranquillamente 20 Days in Mariupol. Come lo dico io sembra tipo la piscina di Mario, non so come si pronunci. Miglior corto documentario The ABC's of Wook Benning, The Barber of Little Rock, Island in Between, The Last Ripper Shop, Nine Eye a Waipo. Anche in questo caso non so come si pronuncia, anche in questo caso non ho visto nessun corto, so solo che Island in Between si può trovare su YouTube. Miglior film straniero Io Capitano dall'Italia, Perfect Days dal Giappone, La Società della Neve dalla Spagna, The Teacher's Lounge dalla Germania e La Zona di Interesse dal Regno Unito. Naturalmente non c'è da dirlo nemmeno la seconda volta, io vorrei vincesse Io Capitano, ma è ovvio che vincerà The Zone of Interest perché, spoiler, è candidato anche come miglior film. Miglior film d'animazione The Boy and the Aaron, Il Ragazzo dell'Aerone Elemental Nimona Robot Dreams Spider-Man Across the Spider-Verse Grande mancanza Non ho ancora visto il film di Miyazaki Però credo sia pazzesco da come me ne parlano praticamente tutti Elemental per me non ha senso si trovi in questa lista Nimona Magari anche sì Robot Dreams hanno deciso di farlo arrivare in Italia ad aprile, grandi geni E io quindi vorrei vincesse Spider-Man Across the Spider-Verse, ma sappiamo tutti che vincerà lo studio Ghibli Non ne sono dispiaciuto anche se non ho visto il film Miglior scenografia Barbie Killers of the Flower Moon Napoleon Oppenheimer Poor Things Vorrei vincesse Poor Things, ma credo vincerà Barbie perché le scenografie effettivamente sono Sono ben realizzate e possiamo dire che è una delle migliori parti di quel film sicuramente Però a me le scenografie di povere creature sono piaciute tantissimo, sembravano uscite dall'intelligenza artificiale e comunque surrealista allo stato puro Miglior montaggio Anatomia di una caduta The Old Overs Killers of the Flower Moon Oppenheimer Poor Things In questo caso vorrei vincesse Oppenheimer, ma potrebbe vincere Killers of the Flower Moon, ma secondo me c'è da tenere sott'occhio anche Poor Things in questa categoria Miglior sonoro The Creator Maestro Mission Impossible Dead Reckoning Oppenheimer The Zone of Interest Vorrei vincesse Oppenheimer perché il sonoro è pazzesco, soprattutto in certi momenti del film Ma anche The Creator, nonostante io l'abbia visto solo su Disney Plus qualche giorno fa e mi si è annoiato comunque tantissimo Però ha un sonoro eccellente e mi sono comunque pentito di non averlo visto in sala, magari mi sarei annoiato anche meno Migliori effetti speciali The Creator Godzilla Minus One Guardiani della Galassia Vol. 3 Mission Impossible Dead Reckoning E Napoleon Vorrei vincesse naturalmente Guardiani della Galassia Vol. 3, però credo possa vincere o Mission Impossible Dead Reckoning oppure lo stesso Godzilla Minus One Che tra l'altro vorrei tantissimo vedere, in teoria potrebbe arrivare nei prossimi mesi su Amazon Prime Video Però il mio cuore dice Guardiani della Galassia Vol. 3 Se vince Napoleon mi arrabbio Miglior fotografia El Conde Killers of the Flower Moon Maestro Oppenheimer Poor Things Per me potrebbe vincere tranquillamente Poor Things ma credo che il premio andrà a Killers of the Flower Moon per la fotografia Anche se Maestro il film di Bradley Cooper ha qualche chicca interessante Miglior attore protagonista Bradley Cooper per Maestro Coleman Domingo per Rustin Paul Giamatti per The Old Overs Killian Murphy per Oppenheimer E Jeffrey Wright per American Fiction Qua l'unico film che mi manca alla visione è American Fiction che non so quando arriverà in Italia Sicuramente a questo punto anche dopo gli Oscar come i suoi compari Ma credo senza dubbi che debba vincere Killian Murphy per Oppenheimer Anche se nelle ultime settimane sembra più favorito Paul Giamatti per The Old Overs Sarei comunque contento perché è stato bravissimo però vorrei Killian Murphy Miglior attrice protagonista Annette Bening per Niad Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon Sandra Hewler Penso si dica così il nome Per Anatomia di una caduta Carey Mulligan per Maestro Ed Emma Stone per Poor Things Che dire Io naturalmente vorrei vincesse Emma Stone per Poor Things Ma sappiamo tutti che vincerà Lily Gladstone È stata comunque molto brava ma sappiamo tutti sfortunatamente il motivo per cui vincerà O magari poi colpo di scena e vince la Hewler per Anatomia di una caduta Però sinceramente vorrei Emma Stone Miglior regia Justin Triat per Anatomia di una caduta Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon Christopher Nolan per Oppenheimer Yorgos Lanthimos per Poor Things Jonathan Glazer per The Zone of Interest In questo caso vorrei vincesse o Christopher Nolan o Yorgos Lanthimos Per Nolan è un po' più probabile la vincita Ma secondo me nella realtà potrebbe vincere Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon Arriviamo all'ultima categoria L'unica con 10 candidati da qualche anno a questa parte Ovvero quella di Miglior Film American Fiction Anatomia di una caduta Barbie The Old Overs Killers of the Flower Moon Maestro Oppenheimer Past Lives Poor Things The Zone of Interest Io sinceramente in questo caso vorrei vincesse Oppenheimer E' anche probabile che vinca Ma ci sono tanti titoli che potrebbero aggiudicarsi tranquillamente il premio Come vi ho già detto appunto il fatto che The Zone of Interest sia candidato come miglior film E' la conferma ovvia che vincerà il miglior film straniero Alla visione mi mancano American Fiction, Anatomia di una caduta E lo stesso The Zone of Interest Barbie per quanto mi riguarda non doveva assolutamente trovarsi in questa categoria E io sinceramente punto tutto su Oppenheimer anche nel premio realtà se vogliamo chiamarlo così Ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi Queste sono state le mie previsioni sia per i film che vorrei vincessero Sia per quelli che secondo me vinceranno effettivamente Io credo che Oppenheimer ne uscirà vincitore con diversi premi Lo spero anche per Poor Things Sono sicuramente i due film che più apprezzo tra tutti i candidati Prima di chiudere vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti Tra i miei social e il link di Pampling Codice Il Pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta E niente io sono Andri Questo è stato un altro mio pensiero per voi Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude Ciao